Perisic, uno contro uno con Qua Gesù, spalla a rimorco per Icardi che si gira ancora! Ancora! Mauro Icardi! 2-1 Inter, la ribaltata ha Maurito Icardi! Nel giro di 10 minuti dall'1-0 Roma con tre pali colpiti e un salvataggio sulla linea di Dalbert Due palloni in area di rigore e questo signore qui non perdona! Due partite, quattro gol per Mauro Icardi!